Appuntamento con il tartufo Marzuolo, oggi naturalmente Capolona si freggia anche di città del tartufo come naturalmente si è visto essendo associata proprio alle città del tartufo. Un appuntamento che si rinnova ogni anno. Sì, quest'anno è la quarta edizione e siamo particolarmente contenti perché c'è un sacco di espositori non solo del tartufo ma anche dei prodotti tipici. Questo sta a significare che questa edizione della filiera del tartufo a Capolona sta prendendo piede piano piano e anche stamattina che abbiamo fatto questo convegno credo che sia importante anche per la valorizzazione del territorio per questa attenzione particolare che vogliamo avere nei confronti del non costruito perché noi stiamo rifacendo adesso il piano strutturale e quindi non solo per il costruito avere un'attenzione e una programmazione ma anche per il non costruito quindi per il settore agricolo, agrario, paesaggistico e anche per quello che non si vede perché i prodotti del sottosuolo non si vedono in cominciare dal tartufo e quindi anche una normativa in qualche modo flessibile che valorizzi e tutela questo prodotto del sottosuolo che è appunto il tartufo credo che sia una cosa importante anche per l'economia generale insomma è un momento con quello che stiamo vivendo una realtà come quella di Capolona prevalentemente manifatturiera un'attenzione particolare verso il territorio, verso le sue caratteristiche i suoi prodotti tipici dal vino all'olio al tartufo penso che si saranno tradotte in normative flessive cioè normative che vogliamo fare in modo non vincolistica diciamo ma che siano danno la possibilità ai produttori, ai nuovi produttori anche vecchi di poter investire su questo settore quindi noi siamo di questa quarta edizione con i tartufai di Capolona soprattutto che sono molto, piano piano insomma siamo riusciti insieme a fare avere dei progetti comuni insomma penso che sia una cosa buona, bella anche per questo territorio per una valorizzazione non solo del sottosuolo non solo del costruito ma anche del paesaggio agrario che dobbiamo mantenere nella sua unicità sia per la produzione agricola sia per il sottobosco e sia anche soprattutto per le attività turistiche che ci possono anche essere in questa realtà La cosa importante è che naturalmente il tartufo è sempre uno di quegli elementi così che caratterizza anche la nostra regione, la Toscana non soltanto opere d'arte, non soltanto naturalmente ambiente ma qualcosa che sta nel sottosuolo e che poi si porta anche in tavola Sì anche questo è uno dei tesori della Toscana e anche di questo territorio una cosa non conosciuta da molti ma negli ultimi tempi c'è una passione nuova per la ricerca di questo prodotto che assieme a tanti altri prodotti direi che imprezzosisce quello che è il nostro territorio e poi dalla possibilità di poter avere una enogastronomia veramente esaltante che sappiamo essere uno degli aspetti molto richiesti anche da chi viene in questi territori a chi viene in Toscana appunto non soltanto per le opere d'arte ma anche per questi aspetti che riguardano appunto l'enogastronomia Mi fa piacere sentire il sindaco che sta interpretando al meglio quella che è la nuova legge urbanistica della Toscana la legge 65 che vuole appunto vietare il consumo di suolo e nel contempo valorizzare il territorio agrario quindi le cose che lui diceva rispetto all'impostazione che hanno dato al loro nuovo piano strutturale sono in perfetta sintonia e credo siano importanti proprio per mantenere le peculiarità di un territorio come questo che appunto ha nel suo paesaggio ha nella sua cultura, nella sua storia nei prodotti che questo territorio esprime una grande ricchezza che oramai da anni stiamo riscoprendo e manifestazioni come queste tra l'altro non fanno altro che esaltare quello che è il frutto della nostra storia che viene riscoperto, che magari viene attualizzato viene ulteriormente valorizzato e rappresenta per il futuro una grande opportunità a me fa molto piacere vedere che ci sono tanti giovani che oggi stanno riguardando all'agricoltura come ad una attività non da scansare come è avvenuto qualche decennio fa ma invece un'attività nella quale c'è ricercare anche buona occupazione ricercare anche quella vicinanza ai valori che erano dei nostri nonni e che oggi riscopriamo per guardare al futuro La cosa bella è che questa mattina durante il convegno c'era un altro elemento quello dei coltivatori diretti quello naturalmente degli agricoltori che è venuto fuori adesso invece trovo qui coloro che sono i commercianti coloro che naturalmente sono addetti a quello che è l'attività produttiva e questo è altrettanto importante perché poco fa abbiamo trovato un ristoratore che tra l'altro ha fatto ripartire anche un'altra azienda un'altra attività in piazza della Vittoria e che mi ha parlato proprio di alcune peculiarità del tartufo e di come si può proporre addirittura vincendo anche dei bellissimi premi addirittura col gelato quando naturalmente le cose sono fatte bene quindi se i nostri ristoratori lavoreranno bene se i nostri commercianti lavoreranno bene in questo caso si inseriscono anche le varie associazioni in questo caso è Confesercenti c'è la nostra Livi ma c'è anche il direttore oggi quindi Mario Cacaglini dopo aver sentito la Regione Toscana nella presenza dell'assessore Vincenzo Ceccarelli e anche del sindaco di Capolona Alberto Ciolfi Sì, la scommessa per la ristorazione ma anche per il commercio tradizionale è quella di valorizzare i prodotti del territorio per rappresentare un'unicità che la fa essere diversa dalla grande distribuzione la valorizzazione dei prodotti del territorio è una scommessa che stanno facendo molti operatori per poter essere unici e così proporsi al consumatore io credo che qui a Capolona partecipiamo volentieri la quarta edizione sta crescendo e la ristorazione sta interpretando questo ruolo naturalmente è una fase di avvio ma viene valorizzato un prodotto di questo territorio le persone lo apprezzano e quindi è una scommessa vinta Senti, io vorrei sentire anche un altro posto il tuo assessore vorrei che venisse qua perché Giuseppe Scortecce l'ho trovato a Citerna insieme a te a promuovere cioè si è mosso sempre ha voluto sempre così vincere questa esatto e quindi logicamente mi sembrerebbe giusto però ecco, credo che veramente c'è stato un lavoro che non si ferma soltanto cioè non arriva soltanto un lavoro negli ultimi 15 o 20 giorni ma è un lavoro che è di anno in anno Sì, noi dall'anno scorso abbiamo già cominciato come è finita la festa dell'anno scorso abbiamo già cominciato a diciamo così a studiare come potevamo fare per quest'anno anno dopo anno chiaramente cerchi sempre di migliorarti di aggiungere cose nuove e cercare di soddisfare quelle che sono le esigenze delle persone, del pubblico secondo me questa qui è una cosa molto importante quella che noi stiamo facendo quella della riscoperta dei valori del nostro territorio oltre all'olio adesso abbiamo anche il tartufo e abbiamo anche la domani ci sarà anche un altro importante appuntamento quello con il vinsanto ecco, quello della riscoperta del territorio e di tutte quelle che sono le peculiarità per noi è molto importante e abbiniamo è l'occasione anche questo appuntamento alla festa del tartufo di abbinare anche quelle che sono le realtà produttive locali ad esempio abbiamo il cioccolato con l'azienda Franzago abbiamo, stasera c'è Massarte Lorenzo Massarte che farà la degustazione ecco, cerchiamo di riscoprire il territorio con tutte le sue sfaccettature con tutti i suoi prodotti e il tartufo oggi la fa da padrone la fa da padrone e il tartufo la fanno da padrone anche i vari eventi che ci succedono legati ai cani alla filiera del tartufo tutto quello che riguarda il tartufo ecco, si può trovare fra oggi e domani qui a Capolona sai, noi abbiamo anche i commercianti la confezercenti che si è anche così si è anche creata un piccolo percorso legato al tartufo intanto ha cominciato con un'amica a quattro zampe la Sara Livi è diventata ricercatrice di tartufi te non lo sai no ha comprato c'è anche il cane speriamo di essere invitati a cena cuciona? ma il cane l'ho messo su proprio tartufi non è proprio gli ho insegnato poco hai preso così come amico un cane da traccia sì è vero però gli ho insegnato poco evidentemente noi siamo i caglini qui ora il prossimo anno il prossimo anno ci vogliono risultati allora tartufo per tutti per tutto l'anno a insegnargli a trovare il tartufo